Principi di base. Come vivere sano. Devi prendere un atteggiamento positivo nei confronti della vita e dei suoi problemi. Bagno tutti i giorni per pulire le cellule morte. Tossine e aprire i pori della pelle. Libertà da strains. Che è il peggior nemico della salute. Lavarsi le mani più volte al giorno. Soprattutto quando si è in pubblico. Dormire tra 6 e 8 ore giornaliere. Mangia il più naturale possibile. Verdura. Cereali. Frutta. Pollame e poco rosso. Scappa da grassi saturi. Carboidrati. Colesterolo. Zuccheri. Sale e grassi idoli. Idrogenati. Noi siamo ciò che mangiamo. Non fumare. Non droga e solo un po' di alcol. L'esercizio fisico. Soprattutto a piedi. In bicicletta e nuoto. Mantenere l'equilibrio tra il sociale. Spirituale. Mentale e fisica. Ridere è il miglior rimedio per tutte le malattie esiste ed è gratuito. Amare la. Vite e prendersi cura del proprio corpo. Buona fortuna e godere di una vita sana. Suzie... Suzie...